Salle Antonio Mazzeo, autore dei Padrini del Ponte che ricordo potete acquistare nel banchetto accanto al palco. Vi invito a leggerlo, è veramente un bellissimo libro. Intanto buonasera a tutti e ringrazio gli amici di Energia Messinese per l'opportunità e per l'invito. Partirei da un dato di fatto, a 18 anni di distanza dalla strage, dalla tragedia di Capaci, ancora in questa città, in questa provincia, noi ne assorbiamo giorno per giorno il fumo, la polvere da sparo, l'odore del sangue, lo avvertiamo giorno per giorno perché in questa provincia, perché in un comune a 40 km da questa provincia, da questo capoluogo di provincia, Barcellona Pozzo di Gotto, si sono decise le sorti di Capaci, di Falcone, sono decise le sorti di quella che era la fine della Prima Repubblica e della costruzione di questa Seconda Repubblica che oggi vede il passaggio in una terza, attraverso il colpe strisciante che stiamo avvertendo giorno dopo giorno. E a Barcellona Pozzo di Gotto, che i boss mafiosi, con un passato nelle versioni di estrema destra, collegati con pezzi dell'arma dei carabinieri e dei servizi segreti, hanno fornito l'esplosivo, hanno fornito le armi, hanno fornito l'artificere che ha collocato a Capaci l'esplosivo facendo saltare in aria Falcone e la sua scorta. E a Barcellona Pozzo di Gotto che passa anche la trattativa tra lo Stato e Cosa Nostra per consentire la rilegittimazione delle organizzazioni mafiose e dei nuovi gruppi politici che sarebbero sorti dopo la stagione delle stragi del 92-93. Pertanto dico quell'aria la respiriamo, ma perché ne respiriamo le immense discariche che i clan barcellonesi, i pecorei di Mazzarà-Sant'Andrea hanno disseminato in questa provincia. Penso a Mazzarà, a quell'immensa discarica, dieci volte più grande di quella di Chiaiano e che oggi è destinato a ospitare anche i rifiuti di Palermo e provincia. Penso alle immense opere inutili, distruttive per il territorio e per l'ambiente come Portorosa. Penso al raddoppio ferroviario che non serve a nessuno per la nostra mobilità. Penso al saccheggio delle colline che gli stressi gruppi nominanti insieme alla borghesia mafiosa di questa città hanno realizzato. Oggi quei gruppi aspirano a realizzare l'ottavo meraviglia del mondo, il ponte sullo stretto di Messina perché è questo che abbiamo cercato di dimostrare, che oggi a questa grande opera che dovrebbe risolvere i problemi del nostro sviluppo, i problemi della nostra occupazione ci penseranno loro che hanno già preparato le società per gestire la movimentazione terra che hanno già preparato le discariche dove disseminare 3 milioni di metri cubi di inerti. Sono loro che hanno preparato il ponte sullo stretto, sono loro che sono i padrini del ponte e con loro sono i loro superiori gerarchici, le grandi cosche nordamericane quelli che trafficano quotidianamente con i colombiani, con i narcos che spostano oggi sui mercati finanziari milioni e milioni di euro quotidianamente. Sono i gruppi partiti da Agrigento, sono i gruppi partiti dalla Calabria che hanno colonizzato Stati Uniti e Canada, che erano pronti a venire a Messina e a finanziare direttamente quei 5 milioni di euro che sono i soldi che i privati dovrebbero mettere sul ponte sullo stretto. L'unico soggetto privato che ci ha pensato che era disponibile era la Cosa Nostra nordamericana e non per caso, non perché riciclava denaro, non perché pensava di rinvestire denaro. Anche Cosa Nostra sa che non regge l'economia, che non darà profitto il ponte sullo stretto, ma ne hanno capito la valenza, la valenza politica, la valenza simbolica. Chi costruirà il ponte sullo stretto contro le leggi di fisica e dell'ingegneria passerà sicuramente alla storia, riuscirà a guadagnarsi quella legittimità politica, riguadagnarsi quel consenso che magari ne è venuto meno dopo le strage ferate del 92-93. Non è un caso che un nostro concittadino lanciò un messaggio politico, benvenga la mafia, se la mafia è in grado di costruire il ponte sullo stretto di Messina. E Cosa Nostra internazionale l'ha capito bene? E Cosa Nostra internazionale viene qui? Viene con gli altri padrini del ponte, viene con l'impregilo, una società che si è macchiata di gravissimi crimini, violando i diritti umani, violando i diritti ai lavoratori, violando i diritti indigeni, implicato in gravi scandali di corruzione. E non dico solo all'estero, ricordiamoci in Campania a gestire i rifiuti, l'emergenza rifiuti creata volutamente ad hoc dai governi passati e dai governi recenti. Quell'impregilo che non ha vergogna una settimana fa di firmare un accordo strategico con il Bin Laden Group, il gruppo finanziario di Osama Bin Laden, quello che dovrebbe essere il nemico dell'Occidente, quella persona che abbiamo ormato quando bisognava combattere i sovietici in Afghanistan, quella persona che riceveva i soldi della CIA, i soldi del gruppo di famiglia che oggi è socio strategico di Impregilo e che riceveva i soldi delle pedromonarchie dell'Arabia Saudita, altro grande gruppo di potere che guarda con attenzione al ponte sullo stretto, disponibile attraverso i principi di questa monarchia a fornire l'altra parte di soldi privati, anche perché l'Arabia Saudita ne coglie il valore simbolico. Chiudo. Proprio di fronte a questo io chiedo agli amministratori ma come non facciamo a vedere l'opera criminogene e criminale del ponte sullo stretto o vogliamo far finta di non vedere quanto peserà in termini di democrazia negata, in termini di militarizzazione del territorio, in termini di omicidi che verranno fatti giorno per giorno, gli omicidi bianchi di chi cadrà dalle impalcature del ponte e gli omicidi neri di chi si avrà il coraggio di opporsi fisicamente. Io credo che oggi ricordare da questa città Falcone, ricordare Borsellino, ricordare tutte quelle persone che ci abbiamo alle spalle a partire da Peppino Impastato che ebbe il coraggio di denunciare cosa significava la terza pista a Punta Raisi per quella stessa mafia che partì per gli Stati Uniti, tontano seduto e che oggi ritorna qui a Messina a fare il ponte. Io dico che l'unico modo per ricordare è quello di dare ai nostri corpi la nostra voglia di lottare, la nostra voglia di vincere contro il ponte sullo stretto l'opera più criminale, il simbolo del ritorno della grande organizzazione mafiosa, delle grandi organizzazioni criminali. Grazie Antonio che in 5 minuti ha riassunto cose molto importanti.